amici di battista 70 phone oggi vi presento le bellissime cover royce case della rock sono originali potete vedere abbiamo qui la loro scatolina originale sono delle cover bellissime davvero hanno una parte metallica parte interna in gomma anche qui è in gomma per cui non va a rovinare il nostro iphone 6 plus parte dietro è un mix di metallo questo è veramente metallo e una parte gommata che dà un'ottima ergonomia vediamo come sta sul terminale possiamo vedere che da un minimo di protezione nella parte frontale è rialzata i tasti sono cromati potete vedere parte laterale metallica qui il tasto del mute scoperto sopra completamente coperto ovviamente da questo lato il tasto avvio spegnimento standby viene coperto ma è molto accessibile qui poi abbiamo anche una cosa che su iphone non è presente però se volete potete utilizzare un laccetto parte inferiore in gomma con i vari accessi completamente scoperti parte posteriore come potete vedere la cam viene portata a filo quindi non è più sporgente e idem la mela viene protetta non appoggia direttamente sul tavolo cover che danno un'ottima ergonomia non vanno a dispensire particolarmente il 6 plus che comunque nonostante le dimensioni diciamo abbastanza imponenti ha dalla sua il fatto di essere comunque un terminale molto stretto per cui diciamo che ha una ergonomia abbastanza discreta come al solito le trovate nel vostro shop queste ve le consiglio in particolar modo perché sono davvero bellissimi eleganti molto protettive e danno un'ottima ergonomia un ottimo grip con questo concluso un saluto da loris agli sbattista 70 per battista